Sono particolarmente felice di sapere che Licia Colò tornerà sui teleschermi con una trasmissione intitolata Il mondo insieme, su di un'antenna che ha molta audience come TV2000 e che ha abbandonato la Rai dopo lo sgarbo che le hanno fatto togliendole la condizione di una trasmissione che lei aveva certamente portato al successo su Rai 3. Sono particolarmente felice ed orgoglioso, orgoglioso anche perché ammiro Licia e la sua professionalità da anni e la mia dimostrazione dell'ammirazione della sua professionalità l'ho data quando nel lontano 1994 ho avuto il piacere di pubblicare per la Rusconi il suo primo libro La mia arca. Bentornata Licia, in bocca al lupo per la tua avventura, il tuo vecchio Chilimangiaro l'ho guardato anch'io per un po', no, non mi convince affatto, forse mi convincerà certamente molto di più il tuo, il mondo insieme. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.